amici saluti a tutti questa sera parleremo del giallo di via poma e delle ultime novità vere false e presunte gonfiate che i mass media ci stanno propagando parleremo sicuramente riferendoci anche all'udienza che ci sarà il 19 novembre presso il gip il quale dovrà prendere delle decisioni importanti su alcuni aspetti questa sera comunque dedico il mio tempo pochissimi momenti a confutare alcune dichiarazioni e propagazioni del dottor luciano garofano che non condivido assolutamente per metodo per origine e per obiettivi innanzitutto non è vero che l'unica traccia biologica rinvenuta sulla scena del crimine di via poma è utile alle indagini sia quella rinvenuta sul reggiseno di simonetto cesaroni esistono anche le famosissime tracce di sangue sul telefono sulla porta sull'ascensore e anche altre tracce la traccia sul reggiseno non ha alcun valore investigativo secondo me perché è attribuibile a ragnarobusco il fidanzato della vittima il quale era l'unico che aveva l'escusazione dell'avere la traccia di simonetta su di sé se fosse stata traccia di sangue avrebbe avuto un valore investigativo ben preciso ma essendo traccia verosimilmente di saliva non di sangue assolutamente questo valore non lo ha se questa traccia fosse stata invece di un soggetto esterno allora poteva avere un forte valore investigativo ricordiamo che la traccia sulla porta è sicuramente di gruppo a però il dico alfa con molte probabilità è 4 barra 4 anche se inizialmente per motivi di kit scaduti venne ritenuto essere 1.1 barra 4 il sangue sulla porta è gruppo a dico alfa 4 barra 4 la traccia sul telefono è sicuramente gruppo a con dico alfa 4 barra 4 ed è dell'assassino purtroppo tutte quante queste tracce sono state sparate cioè praticamente consulenti del pubblico ministero gli hanno consumate le hanno consumate tutte e queste sono riferibili realmente all'azione omicidiaria e all'assassino dal 1990 al 2013 gli inquirenti e loro consulenti e loro fans soprattutto si sono affannati a confutare quanto io dicevo cioè che il sangue sul telefono era il gruppo a dico alfa 4 barra 4 quindi dell'assassino poi da quando la corte d'assise d'appello attorno al 2010 11 e la corte di cassazione mi hanno dato ragione dicendo del sangue sul telefono era dell'assassino ed era gruppo a dico alfa 4 barra 4 questi soggetti sono tutti scomparsi certamente resta questo elemento oggettivo che queste persone tentano di confutare ogni tanto a volo di rondine colpiscono e fulgono perché non gradiscono di essere sul classati da già chi li aveva sul classati in diversi casi criminali poi dal gennaio 2024 quindi quest'anno da quando esplose la notizia che i carabinieri della procura di roma avevano indicato come assassino un soggetto gruppo sanguigno a dico alfa 4 barra 4 i suddetti soggetti che secondo me possiamo anche dire che sono degli rossicanti rossicatori tornarono imperterriti a difendere il loro primato cioè quello che dicevano che dovevano per forza dimostrare che l'assassino non avesse il gruppo sanguigno a dico alfa 4 barra 4 altrimenti io avrei avuto ragione nelle indicazioni che davo da anni relative a questi requisiti particolari a queste caratteristiche particolari dell'assassino che loro non volevano e non potevano ammettere perché perché se l'avessero ammessi avrebbero dovuto ammettere anche i loro errori e invece che io e il mio team avevamo completamente ragione questi soggetti purtroppo agiscono prendendo a schiaffi la scienza e la logica nel gennaio del 2024 chi si distinse fra questi schiaffeggiatori della logica della scienza fu proprio il biologo luciano garofano consulente prima del pubblico ministero in fase investigativa poi della parte civile contro il ragnero busco nella fase processuale ricordo che furono due buchi nell'acqua assolutamente il 5 gennaio 2024 purtroppo il dottor luciano garofano propalò a livello nazionale senza contraddittorio giusto per il gusto di non dare ragione a chi dal 92 93 diceva che il sangue dell'assassino era di gruppo A propalò la seguente per la forense investigativa che assolutamente io non gradisco che non è vero anche il contesto disse luciano garofano si è scoperto che i gruppi sanguigni erano afflitti anche da trasformazione a opera di microrganismi e non sempre il risultato era pari al gruppo di appartenenza cioè io posso avere un gruppo A e magari sul reperto veniva il gruppo B una corbelleria totale ebbene dimestifichiamo tale assurdità con cinque motivi ben precisi primo motivo non è vero che i microrganismi possono cambiare i gruppi sanguigni in modo che se io ho un gruppo A in un reperto può venire il gruppo B il gruppo sanguigno è geneticamente determinato e non cambia nel corso della vita 2 solo in caso di trapianto di cellule staminali e matotopoietiche il gruppo del donatore si sostituisce a quello del ricevente e non è la fattispecie perché il gruppo sanguigno sul telefono e sulla porta era gruppo A e A è rimasto certamente non poteva essere gruppo 0 quello di Simonetta Cesaroni e poi trasformarsi in gruppo A è una corbelleria punto 3 tutti i lavori scientifici che trattano della modificazione dei gruppi sanguigni ad opera di microorganismi batterici certificano che l'unica modificazione possibile è quella che a opera di particolari enzimi chiamati esogliicosidasi solo i gruppi A e B possono diventare zero in queste situazioni estreme ma non in A o in B e viceversa punto 4 alcuni batteri sono forniti di enzimi che tagliano gli antigeni A e B dei rispettivi globuli rossi A e B quindi i globuli rossi A e B con gli antigeni tagliati non avendoli più risultano di gruppo 0 a tutt'oggi questo è l'unico meccanismo noto e riconosciuto di trasformazione del gruppo sanguigno opera di alcuni batteri da A o B o AB a 0 non sono stati mai descritti casi di gruppi A che si trasformano in B o viceversa quindi gruppi B che si trasformano in A come è stato asserito purtroppo nell'intervento di Luciano Garofano punto 5 questo dal 2019 a tutt'oggi è l'ultimo di maggio 2004 su Nature Microbiology non sono stati mai dimostrati i lavori apparsi sinora dimostrano esattamente quello che dico io quindi abbiamo la sicurezza assoluta sul gruppo del telefono e della porta che gruppo A di Q alfa 4 barra 4 qui la dobbiamo smettere di andare a cambiare i dati per dimostrare le proprie teorie andiamo a spostare i tasselli dal passato per dimostrare quello che ci è più simpatico abbiamo degli elementi oggettivi sui quali non bisogna scherzare non si deve scherzare per motivi di antipatia per motivi di simpatia per motivi di schieramento eccetera nella scienza dell'investigazione criminale nella scienza questi schieramenti sono vietati non bisogna schierarci per motivi ideologici e motivi di simpatia di appartenenza eccetera attenzione chi affermò che il sangue sul telefono fosse di gruppo A con di Q alfa 4 barra 4 non fu un pincopallino qualunque fu lo scienziato di fama mondiale Angelo Fiori e tanto risultò nel processo d'appello contro Raniero Busco infondata quindi la successiva dichiarazione televisiva di Garofalo che fece attorno all'8 gennaio senza contraddittorio naturalmente dove disse di non essere d'accordo col professor Fiori certo libero di non essere d'accordo però deve dimostrare perché il gruppo sanguigno sul telefono non è gruppo A di Q alfa barra 4 qua 4 barra 4 come invece dice il professor Fiori è facile dire non solo d'accordo si deve spiegare perché, in che modo, quando, dove i presupposti, i collegamenti, i dettagli micro e macro bisogna spiegare i motivi logici e scientifici purtroppo notato che si scherza troppo con la prova scientifica è successo ad Arce, Pacciani, eccetera con comportamenti non coerenti ed antiscientifici comportamenti che non forniscono assolutamente buoni esempi alle nuove generazioni di scienziati, investigatori, forensi e criminali che stanno arrivando questi comportamenti non rendono un buon servizio alla giustizia e all'investigazione criminale questo per ora è il mio pensiero dedicato alla questione del gruppo sanguigno A di Q alfa 4 barra 4 che certamente non viene da una modificazione di un sangue che prima era gruppo 0 qualche altra volta parleremo delle ferite che sono state inferte tramite un tagliacarte e non invece come ora si stanno inventando sempre per motivi ideologici parleremo dell'argentina rossa con dicitura Lavazza rinvenuta sulla scena del crimine appartenente alla famiglia Vanacore cosa che non è gradita purtroppo a un investigatore che stimavo e stimo tuttora alla prossima grazie grazie a tutti